Capitano Matteo Soragna, capitano di tante battaglie della passata stagione, pronto per le prossime sfide in A? Dobbiamo essere pronti sapendo che sarà una stagione da un certo punto di vista entusiasmante per la gioia e l'orgoglio che deve avere il paese per riconquistare la Serie A. Però anche sarà una stagione complessa perché non sarà semplice, la Serie A è un campionato diverso, Capitano lo sa, è già conosciuta, bisogna essere capaci di affrontare momenti difficili e di cavalcare quelli più belli. Baso, Sandro, Dominic, trovi qualcuno dei tuoi compagni della passata stagione, hai conosciuto i nuovi, che impressione ti hanno fatto? Siamo all'inizio, ma sicuramente il fatto che siamo rimasti in quattro è una cosa importante per dare continuità a quello che è il modo di vivere Capodorlando e il modo di vivere la squadra. Ora siamo qua a Tripi, ci sarà occasione di conoscersi un po' meglio, di fare un po' più gruppo e piano in piano cominciare ad allenarsi. Rispetto alla passata stagione comunque lo spirito dell'Orlandino è sempre lo stesso in campo? Deve essere lo stesso perché quello che contraddistingue Capodorlando è quel tipo di interazione col pubblico, col paese, quindi il nostro compito è quello di far divertire i tifosi e il compito dei tifosi è quello di darci la carica e la spinta per fare meglio.